Ciao a tutti! Oggi sono qui per farvi un video haul, come voi vi avete chiesto su Twitter l'altro giorno. Questi vestiti e queste cose che vi mostrerò oggi sono cose che ho comprato ultimamente quando sono tornata qui in Italia. E molto presto vi farò anche un video haul su quello che ho comprato in America, uno per i trucchi e uno per i vestiti. E non ho già l'ora di farvi vedere quella roba lì perché sono cose che qui non abbiamo. Tanto iniziamo con questo. Prima di andare al mare sono stata a Firenze dove ho comprato un bel po' di roba. Sono stata da Zara che è il mio negozio preferito in assoluto, vi giuro lo amo. Ogni volta che ci vado trovo sempre qualcosa. E questa volta ho trovato questa camicia che di solito metto quando fa un po' più fresco a ora d'estate perché è abbastanza pesante. E la taglia M mi sta abbastanza grande, però volevo che fosse grande. Il motivo è a righe blu e bianche, mentre qui sul colletto è a po' A. Questa è venuta sui 18-17 euro mi pare ed è comodissima davvero. E per farvela vedere l'ho indestata con i pantaloncini che ho preso da fuori del 21 e le mie convert gialle. Sempre da Zara ho preso un vestito, che è questo. Tutto rosso, perché io amo il rosso. Penso sia il mio colore preferito da indossare, visto che è d'estate, con l'abbronzatura. Non lo so, penso sia quello che mi stia meglio. E davanti è semplice, fatto così. Il tessuto è pesante, quindi non lo metto per andare al giro, ma lo metto più la sera. Il bello però è dietro perché è tutto indrecciato. E c'è un pezzo di schiena libero. Questo è venuto sui 30 euro. E l'ho indossato per voi con dei tacchi che ho trovato su un tito americano. Sempre a Firenze, alla Sisley, ho comprato questi pantaloncini che trovo carinissimi. Mi piace tantissimo il dettaglio delle tasche qui davanti e sono di un tessuto molto strano. Sono a vita molto alta, infatti mi arrivano fino a sopra l'ombelico e sono venuti 35 euro. Per farveli vedere li ho indossati con una maglietta nera semplicissima presa da Pinky e le mie Dr. Martens alte. Sempre a Firenze sono stata alla Dixie, dove ho preso questa magliettina con questo motivo a fiori, che è molto svolazzante, diciamo. È fatta con queste gallette alle maniche e sotto. Questa è venuta 30 euro e mi fariene anche a saldo, quindi era abbastanza costosa. Comunque alla Dixie c'è tutta roba costosina. Questa l'ho indossata sempre con i miei shorts della Forever 21 e dei sandali neri a gradiatore. Sempre alla Dixie ho preso questi pantaloni rossi. Sono pantaloni a campana, infatti finiscono molto larghi e sono quelli che arrivano fino a sopra la caviglia. Sono a vita alta e sono abbastanza trasparenti, quindi se non ci sto attenta mi siedono le mutande con questi. Questi per farveli vedere li ho indossati con un top nero semplice, che ho preso alla Brandy Melville e sempre con le mie Dr. Martens nere e alte. E sono venuti sui 17-18 euro. Poi quando ero al mare sono stata al mercato, dove di solito io non trovo niente perché non mi piacciono molto i mercati. Però questa volta ho trovato una maglietta a poire rossi, stranamente, che è fatta da questa parte superiore che è un po' più spessa e sotto da questo velo trasparente bianco, che davanti è più corto, mentre dietro è molto lungo. Non mi piace come sta con i pantaloncini corti, quindi la indosso con i jeans e con le mie Stan Smith. E questa è venuta 15 euro. Poi sono stata alla Subdued e non ci crederete ma ho comprato il mio primo paio di pantacollant, perché non so, non mi piacevano. Siccome in America tutti le indossavano, mi sono ricreduta, perché penso siano comodissime, poi con le magliette larghe ci si sta benissimo. Questi non le ho indossate anche perché sono normalissimi pantacollant. Sono semplicissimi, grigi, e sono venuti 10 euro. Sempre alla Subdued c'erano tutti questi calzini luccicanti, allora ne ho presi un paio, anche se ne avrei voluto prendere di più perché mi piacciono un casino con le Adidas. E niente, sono venuti 5 euro, c'erano moltissimi colori. Peccato che ne ho preso un solo paio, la prossima volta che ci dovrò ne prenderò un altro paio sicuramente. Nel video le indosso con le Stan Smith, ovviamente, e addosso avevo anche questa borsa, che ho preso l'altro giorno all'outretto qui accanto a dove abito io. Questa sarebbe la Stella McCartney, che però non ho capito se è vera o no. Cosa che non mi interessa moltissimo, perché io sono più per spendere meno sulle borse, su queste cose di grandi marche, che su spendere 1000 euro, perché poi tanto mi si rompono sicuramente. E questa è costata 99 euro, quando in realtà la Stella McCartney costerebbe sugli 800. Quindi sono più che contenta del mio affare, anche perché è identica. E mi piace tantissimo il colore nero lucido di questa. E anche il fatto che dentro sia divisa in diversi scompartimenti, e che abbia il taschino per mettere il telefono. E poi volevo farvi vedere questo costume, che è fantastico, che credo sia il costume più bello che io abbia mai visto, di questo verde acqua, turchese, tutto paillettato. È fatto molto bene perché le paillette non vengono via, cioè ci sono attaccate molto bene. Il top è tutto paillettato, mentre il sotto è paillettato davanti e normale dietro. Dietro, secondo me, è un po' troppo mutanda, non mi piace molto come è fatto, è una guida molto alta, però non so, non mi piacciono costumi spaiati, mi piacciono più quando sono abbinati sopra e sotto, perciò le ho prese entrambi. Anche perché erano a sconto, tra l'altro, e sono venuti insieme 35 euro, mi pare. E questi li ho presi dalla Golden Point a Siena. Passiamo ai trucchi che ho comprato ultimamente, e non sono molti perché in America, poi vi farò vedere in un altro video, insomma. Ne ho comprati tantissimi nell'ultimo periodo, visto che c'era il prom, c'era la graduation, c'erano un sacco di feste, e lì si truccano veramente molto. Allora ho dovuto imparare a fare tutti i cosi lì, le cose pare, tipo il contouring, perché erano tutte cose che io non sapevo fare. E adesso ho imparato, diciamo, che sono una professionista nei trucchi, praticamente. Ho finito il mascara, quindi ne ho comprato uno nuovo da Kiko. E devo dire che questo è veramente spettacolare, perché fa benissimo. Ed era in saldo, l'ho pagato solamente 3,60 euro, e quindi se lo ritrovo lo ricompro subito, perché fa benissimo, è meraviglioso. E sempre parlando di mascara, siccome c'era quando ero al mare lo schiuma party, e io amo il mascara, me lo devo mettere sempre, quando esco, non avendo il mascara waterproof, l'ho dovuto comprare quando ero lì al mare. Ho comprato questo qua, della Rimmel, che si chiama Wonderful, ma di Wonderful non c'ha niente, praticamente. Infatti non fa. E il mascara per i fantasmi, questo secondo me, io me lo metto, ma è come se non facesse niente. E è assurdo, davvero. Cioè, se lo volete ve lo regalo, ve lo tiro dietro, anzi. Cioè, sarebbe da tirarlo dietro a quelli della Rimmel. E l'ho pagato 10 euro, questo. E queste erano le ultime cose che ho comprato. Mettete tanti pollici in su se questo video vi è piaciuto. E se volete vedere io sulle cose che ho comprato in America, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Iscrivetevi al mio canale. E ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!